Buon pomeriggio a tutti, ben ritornati sul mio canale, io sono Angela e tu sei sul mio canale tutto dal web. Colpo di scena al grande fratello VIP, proprio ieri nella giornata dedicata a Oriana perché hanno festeggiato il suo compleanno, noi telespettatori italiani abbiamo scoperto un passaggio segreto che è stato svelato solo a circa un mese dalla fine. Dentro l'armadio infatti di Luca Onestini c'è una porta nascosta che collega la camera al loft. Onestini lo ha fatto vedere a Oriana Marzoli che è rimasta completamente stupita, come tutti i telespettatori che stavano seguendo la diretta. Su Twitter infatti sono moltissimi video che mostrano quel momento che sono stati poi condivisi e altrettante sono le polemiche per questo segreto. Sembrerebbe infatti che a dare questa dritta a Orestini in occasione del compleanno di Marzoli sia stata proprio la produzione che gli abbia dato il via. Ma ai telespettatori italiani però sale il dubbio perché quella scorciatoia potrebbe essere stata usata anche in passato, magari per ricevere telefonate o scambi di cibo, queste le possibilità sono state scritte sui social. L'altra possibilità invece è che in realtà nessuno sapesse di questo passaggio e che sia stata usata solo per fare la sorpresa a Oriana. E tu che cosa ne pensi? Scrivmelo nei commenti, lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!